ragazzi se vi fa piacere iscrizione gratis al canale attivate la campanellina basta un clic iscrizione al canale campanellina se no va ben uguale è una domenica un po particolare dall'altro dovevo essere al mare non sono andato per motivi miei lo stop bello lo stop di bicipite di pulisi c'è bello lo stop di bicipite ora va bene cioè non il var ieri sera ha cambiato il regolamento ora si può stoppare anche la palla di bicipite quindi oltre lo schifo che abbiamo visto ieri sera eh a tutti ci girano i coglioni ragazzi parliamoci sinceramente siamo vedo che comunque non ti dico che è ricominciato l'inzaghi out ma tutti addosso ai zaghi per l'amor di dio io sono stato il primo a dirti addirittura dopo il cinque e uno al Milan guardate e questo non è il mio allenatore preferito non è un allenatore che mi fa impazzire io però vi voglio raccontare una storia che dura poco perché le novelle non mi sono piaciute mai non mi sono mai piaciute nemmeno quando ero bambino mi piacevano le novelle quando la mamma me le leggeva a letto primo anno di in zaghi all'inter ti voglio leggere una storia te lo ripeto le breve finisce subito derby siamo in vantaggio campionato chiuso te lo ripeto primo anno di in zaghi derby siamo in vantaggio campionato chiuso lui cosa fa prima toglie perisic poi toglie barella poi toglie lautaro e poi toglie cialano mi ricordo solamente due cambi perché stavo per sentirmi male entra gagliardini entra correa il milan ci recupera vince e vince il campionato perché ora mi sono rotto i coglioni ora le voglio dire tutti quell'altro che è venuto dalla juve masterclass come lo chiamate masterclass masterclass vogliamo chiamare masterclass perché in zaghi va bene c'ha le sue colpe però illustriamo la situazione a trecentosessanta gradi perché bisogna essere onesti masterclass masterclass dove alla juve rompeva i coglioni agli arbitri anche se gli dava non farlo laterale in meno viene all'inter ci fanno rigiocare la partita di bologna per lo stesso motivo la roma non rigioca una partita a noi ce la fanno rigiocare lui sta zitto rigiochiamo a bologna e sappiamo tutti come è andata a finire va bene vuoi te lo ridico te lo ridico non ho problemi indipendentemente no da quello che ti può dare questo allenatore io mi devo sfogare questo video sfogo prendilo come ti pare ho visto partite vincere tre a zero e continuare ad andare a mille all'ora a cerbi che che fa l'attaccante ma cosa cosa diavolo attacchi come un forzennato sul tre a zero te mi dici giuse ma perché qui sui due a zero ci rimontano se non siamo sempre a palla se non andiamo sempre a mille lui non ha gestione della partita ma quest'anno a maggior ragione non hai gestione del ritmo perché ti manca un calciatore un equilibratore come brozovic che c'è la noglu te lo ripeto non è brozovic c'è la noglu non è brozovic in fase di interdizione come schermatura non è brozovic come come il saper dettare i tempi c'è la noglu non è brozovic te lo ripeto però bisogna dire una cosa la rosa dell'inter perché ora ti sto per dire una cosa poco simpatia la rosa dell'inter è comunque competitiva per combattere con il milan con il napoli con la juventus la rosa dell'inter è competitiva quest'anno c'erano sul mercato giocatori come i cardi che poteva tornare ha fatto outing a 10 milioni perché galatasaray lo ha riscattato a 10 milioni te mi dirai ma c'aveva un ingaggio alto no d'accordo ma te io sono il primo a cui i cardi ha fatto girare le scatole attenzione come tanti di voi io non avrei preso nemmeno io non avrei ripreso nemmeno lukaku e voi lo sapete ci sono i video a maggior ragione quest'anno non l'avrei mai ripreso pensa se avrei ripreso i cardi però attenzione questa cosa qui la voglio risottolineare però attenzione quando te masterclass mi porti quadrato quando te mi umili con quadrato a quel punto puoi riportare anche i cardi secondo me perché qui a me da arrivare da arrivare in champions di arrivare in finale champions league ok da un lato fa piacere a tutti ma da arrivare in finale champions league per pagare le erasmus ai cinese a me non me ne frega nulla hai capito o no perché soldi della champions league sono serviti per pagare le erasmus ai cinese tutti tutti i debiti e all'inter perché sono partiti lo stesso i giocatori e te ne hanno presi ma chi ti hanno preso e questo ora l'argomento di quel principale di questo video che hanno preso a 12 milioni c'era rettegui non andava bene 10 milioni potevi riprendere i cardi te mi dici guarda però c'è un ingaggio importante bene non prendevi a ornautovic sto facendo un esempio anche io non l'avrei forse ripreso i cardi ma se prendevi i cardi avevi i cardi turam e lautaro martinez e come quarto potevi tenere anche pio esposito non ti dico pinamonti potevi tenere con questo trio di attaccanti pio esposito ecco che non prendevi arnautovic 3 milioni perché io questa estate te lo dicevo non lo prendere quello lì non lo prendere è stato fermo sei mesi a 35 anni ha un fisico importante si allena poco si allena male non lo prendere arnautovic ti dicevo e te lo ridico un'altra volta te lo ridico un'altra volta questi fuori classe hanno preso due attaccanti due ex giocatori di 35 anni poi speriamo che qualcosa riescano a fare da qui a fin anno e tre competizioni ai due attaccanti e ai due attaccanti con un allenatore che gioca sempre con due attaccanti non hai due attaccanti che gioca con un alleatore che gioca con una punta sola te hai due attaccanti con un allenatore gioca sempre con due titolari eh è da fenomeni fare tre competizioni con due attaccanti quindi tutta questa rosa profonda dove dove è questa rosa profonda voglio aprire io te lo ripeto è competitiva per la serie A dov'è questa profondità della rosa vogliamo andare ai centrocampisti Aslani lui non lo vede Aslani per me è un grandissimo giocatore lui non lo vede vogliamo parlare di Klasen Klasen sicuramente un bel giocatore bravo ma ad oggi sembra un tedesco in vacanza Klasen quindi due spezzoni di partita che ha fatto sembra un pesce fuor d'acqua gli manca l'infradito e il calzino bianco a Klasen l'Ajax te lo regala perché te lo regala sicuramente sai giocare a calcio non mi rimangio quello che ho detto l'ho visto in Champions contro il Napoli ma che giocatore è questo Klasen perché non gioca mai perché ha giocato sette minuti panchina ci sono due giocatori forti Carlos Augusto e Fratesi il resto è buio più totale senza problemi fisici Aslani non lo vede Klasen per ora è una meteora quindi dove sono tutte queste scelte in panchina se poi te ci metti che lui 3-5-2 e basta e non lui 3-5-2 non molliamo e basta e cioè dov'è tutta questa profondità abbiamo tre competizioni con due attaccanti quindi di cosa vogliamo ragionare ragazzi a te con il cinese dove volevi andare siamo sempre alle solite io io ho detto a differenza dell'anno scorso c'è più scelta ma non c'è tutta questa grandissima scelta non è che ha due tre scelte per ruolo l'allenatore parliamoci chiaro poi lo sappiamo tutti e lui fa gli stessi errori dell'anno scorso e dell'anno prima perché questa è una squadra che non può andare a mille con tre partite ogni dieci giorni non ce la fa perché lui lo stesso Mkhitaryan ha 34 anni lo sta spremendo Mullimone a Cerbi 35 anni lo sta spremendo Mullimone Darmian l'ha spremuto fino all'altro giorno Mullimone meno male è arrivato Pavard dov'è la profondità della rosa dell'Inter dov'è ai due attaccanti buoni hanno preso due di 35 anni a fine carriera te mi direi Giusema avevamo avuto sfortuna si è fatto male ma secondo te uno è l'anno scorso è stato fermo sei mesi Arnatovic per problemi fisici è più facile si infortuni lui è un ragazzo di 25 anni Sanchez che sta a ritorno i fili no che fa le pirouette secondo te che si punta sempre un masterclass fino all'ultimo giorno per non andare via perché voleva tutti i soldi masterclass cosa fa prende e te lo riporta un'altra volta ti prende quadrato allora ti dio gente parla di morale di etica potevano riprendere i cardi ma non perché io ripolevo i cardi ti sto facendo un esempio almeno avevi tre attaccanti bomba ce n'hai due e uno che è turam sta studiando da centramanti ai due attaccanti per tre competizioni perché te su Sanchez e Arnatovic te lo ripeto non lo so quanto ci puoi contare questo bisogna dire oltre tutte le cazzate che fa in zaghi bisogna essere onesti rispetto all'anno scorso una rosa più ampia ma fino a che punto è più ampia rispetto all'anno scorso perché te come l'anno scorso ci riai due attaccanti per tre competizioni mentre hai 48 centrocampisti di cui i due tre non li utilizza perché tra chi non vede tra chi sta poco bene 47 esterni e ti dirò di più sull'uomo centrale centrale alla Schultz alla Schignard c'hai solo a Serbia da 36 anni cioè capito lo vedi che a Serbia lo fa giocare anche io la febbre il perno della difesa a 36 anni all'Inter quindi di cosa vogliamo ragionare ragazzi di cosa vogliamo ragionare ti sembra una rosa questa assortita bene questa è una rosa assortita di una società indebitata fino al collo con tutti i pagherò hanno preso Pavar ma hanno venduto hanno venduto per per cento rotto milioni hanno preso Pavar hanno dato via Brozovic ma occhio concludo il video e ti dico occhio anche alla mancanza di Brozovic perché io te l'ho sempre detto giocatore me Brozovic al mondo ce ne sono poi si sente la mancanza di Brozovic perché c'è la nogru può essere bravo quanto ti pare giro palla veloce non dà punti di riferimento è migliorato tanto in fase difensiva ma c'è la nogru non è Brozovic attenzione perché con Brozovic non prendi tutti quei gol comunque quando gioca play c'è la nogru con Brozovic prendevi molti meno gol vedi l'anno scorso quando mancò Brozovic e noi andammo tutti in ciappanelle cinque sconfitte di fila di cosa vuoi ragionare un'altra roba ti dico ok il percorso in Champions tanta roba abbiamo pagato l'Erasmus ai cinesi va bene siamo d'accordo su questo ma dodici sconfitte in campionato non vengono per caso attenzione dodici sconfitte in campionato non è chietta rimanosi perché sei sfortunato no perché gli errori di quelle dodici sconfitte io l'ho riviste anche ieri quindi non è successo nulla di grave perché comunque siamo messi bene in Champions League siamo messi in campionato però occhio occhio a dare addosso solamente ad Izaghi che anche a me lo sapete lo ripeto non ho problemi a dirlo l'ho detto dopo il 5 1 al Mina non è il mio allenatore preferito giusta chi prendi ora ora non puoi prendere nulla non puoi prendere nessuno ora ti tieni Izaghi poi vedrai che ora Izaghi si riprende rifatte due tre partite a mille poi dopo ne perderemo chiedo un'altra perché quest'anno sarà così sarà un'alta lena te lo dio subito appena ci sarà da giocare ogni tre giorni questa squadra riva nel caos te lo dice giuse purtroppo è così per come è strutturata la squadra per l'idea di viaggio e all'allenatore è così l'iter sarà un'alta lena quest'anno faremo bene da una parte povera che da un'altra lo vedrai purtroppo è così però in italia siamo competitivi la rosa dell'inter per questo campionato ridicolo dove ormai sono ammessi anche gli stop di bicipite è competitiva ciao inter